Buon appetito! Oh no! She's right footed as well eh? Absolutely Oh no Oh no Oh no Okay, now you're going to do this, so you're going to do a strength, you're going to do Quindi devi fare la speed, devi fare la stretta, e poi devi fare la scelta. Oh, è vero, 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 è vero. Qui si è righto, ad esempio, peperci che sia il giro, ed è vero, migliare, no, stai adorma, guarda qui. Guarda, guarda! Se potrì, un'è un'è un massaggio per i di 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 Dio, Grazie a tutti